Ciao ragazze, buongiorno a tutte, volevo ricordarvi la disponibilità del nuovo manuale di creativa per creare bellissimi fiori. Vi ricordo che se ordinate il manuale nel sito www.lineamerceria.it avrete poi uno sconto del 10% su tutti i materiali che si utilizzano per realizzarli, tra cui le garze, i pannelli già pronti in pannolenci da ritagliare, la telina biadesiva, i pistilli e i tantissimi colori del velluto cimigliato. Eccoli qua, questi sono soltanto alcuni. Mi raccomando, il manuale sta aspettando solo voi per realizzare i bellissimi progetti. Potete scrivermi anche per l'ordine su whatsapp questo numero qua. Grazie mille e a presto. Ciao ciao!